Ciao a tutti, per chi non avesse mai visto i miei video mi chiamo Alessandra e faccio video su tutto quello che faccio, su tutto quello che compro, su tutti i libri che leggo, su finanza, su cosmetica, su viaggi che faccio e spero che in tutti questi video potrete trovare qualche consiglio che vi sia utile. Oggi voglio parlarvi di questo libro di Robert Kiyosaki, Il Bussiness del XXI secolo. Mi soffermerei su questa pagina per spiegarvi il quadrante di Robert Kiyosaki. Allora, la società di oggi, la nostra scuola, ci insegna ad essere degli ottimi dipendenti, cioè ci mette nella mente, tu sei brava a scuola, esci con ottimi voti, troverai un posto di lavoro fisso, la tua grande fortuna e sarai felice per sempre. Non è così, perché a volte c'è anche chi si accontenta di questo e chi è felice del proprio lavoro, ma noi barattiamo soltanto il nostro tempo in cambio di denaro e a volte ci troviamo intrappolati come nella ruota del criceto, corriamo, corriamo, ma sempre lì stiamo. Quindi c'è qualcuno che vuole, da dipendente, diventare autonomo, esempio, diventare parrucchiere, estetista, pensa di fare un salto di qualità. È lui che allora con le sue mani fa i capelli, oppure fa la manicure, fa l'idraulico, riaggiusta la caldaia, fa il muratore, fa un muro, ma sempre lì siamo, cioè barattiamo il nostro tempo per il denaro. Quindi è soltanto un'illusione di esserci liberati dal posto fisso. C'è chi riesce a fare dal posto autonomo un salto di qualità titolare di grande impresa. Allora a quel punto noi andiamo soltanto a controllare, cioè non siamo noi che in prima persona lavoriamo nella nostra grande impresa, ma abbiamo degli ottimi dipendenti che noi scegliamo scrupolosamente, gente anche più in gamba di noi, attenzione, più in gamba intelligente di noi. Questo è molto importante, farò un video anche su questo, che ci porta avanti la nostra impresa. E noi possiamo dedicarci a quel punto a cose che ci piacciono, alla nostra famiglia, a fare sport, a leggere, a cose a cui prima non dedicavamo, perché non avevamo tempo di dedicarci tempo. Questo sarebbe un salto di qualità. Poi scendiamo giù e ci sono gli investitori. Secondo me queste persone sono persone fortunate, perché hanno quel salto di qualità, quella mente aperta, quella svolta nella vita, sono investitori illuminati, che riconoscono subito dove investire. Hanno dei ritorni di guadagno all'inizio anche piccoli, ma poi una volta imparato a stare in questo quadrante, diciamo che il grande gioco è fatto perché capisci tante cose, sei una persona completamente diversa dagli altri e sei una persona che può dare anche tanto agli altri, perché una persona con i soldi, una persona soddisfatta, una persona felice sicuramente può dare di più di una persona che è preoccupata dei propri problemi economici e quindi non riesce a dare il meglio di se stessi. Io volevo soltanto spiegarvi questo piccolo concetto, perché secondo me è fondamentale. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace perché tanti mi piace, tanti nuovi video e iscrivetevi al mio canale perché metterò tantissime cose interessanti di vario genere e vi farò divertire tantissimo. Grazie, un bacio, al prossimo video!